Salve a tutti amici ben ritrovati, oggi mi trovo in compagnia di un'amica, infatti la luce la doppia dopo un bel po' di tempo, l'ultima ospite dice luce in cucina è stata suami, la bimba non vedete che saluto, oggi sono in compagnia di Maddalena Villacci, Maddalena è tutta youtube, buongiorno a tutti. Maddalena è una amica non vedente che fa parte del gruppo facebook Cucinando al buio tanto ce luce in cucina, che è un gruppo nato non tantissimo tempo fa dove un po' di persone con la mia stessa problematica si sono raggruppate, in particolare io ho creato questo piccolo bacino d'utenza, piccolo, siamo più di 600 persone per il momento, e dove ci diamo dei consigli inerenti alle nostre problematiche di approccio all'autonomia in cucina. Oggi Maddalena, siccome in genere l'ospite quando arriva qua e la mia cucina mi porta sempre una ricetta magari di famiglia o della sua zona, Maddalena essendo di Benevento, Adalena è una bevente come me, mi ha portato questa ricetta delle fratelli beneventane, che cosa sono le fratelli beneventane? Adalena è un rustico, diciamo un tortano, che si fa nel periodo pasquale e viene accompagnato con dei salumi. Sono monoporzioni piccolini, come dei taralli, un po' più grandi diciamo, dei taralli normali, e a Benevento si accompagnano nel periodo pasquale con salumi, formaggi, a posto del pane, invece di usare il pane si usano quelli là. Bene, questa è una ricetta che vi consiglio di appuntarvi, perché il fratello di Maddalena al Benevento ha un forno, per cui ci ha regalato questa bella, e vediamo subito quello che ci occorrerà per fare le fratelli beneventane. 500 grammi di farina tutto il vero, 3 uova intere, pepe quanto basta, 10 grammi di sale, 90 grammi di latte, un cubetto di lievito di birra fresco, 130 grammi di strutto, e strutto quanto basta per cospargere i nostri taralli prima di infornare. Noi andremo ad utilizzare la planetaria, ma volendo si possono tranquillamente anche maneggiare, insomma, impattare con le mani. Ora io inserisco nella ciotola della planetaria, in genere quando si usa il lievito di birra e sale, io lo lascio sempre un po' sul fondo della ciotola, perché così non viene molto a contatto con il lievito, che non dà fastidio alla lievitazione. Quindi ho inserito sale e pepe, andiamo a mettere anche il latte, perché così faciliteremo all'impattatrice di assemblare il tutto, e poi sopra ci metterò la farina. Se impattate a mano, ovviamente invertite, farete un foro nella farina e inserirete il tutto. Dicevi che il lievito eventualmente va sciolto nel latte. Se impattate a mano, lo sciogliete nel latte, così date la possibilità, la lievitazione di attivarsi prima. La planetaria invece ci agevola un po' il compito. Inseriamo tutto lo strutto, le tre uova, e andiamo a sbriciolare anche il lievito. Azioneremo la macchina fin quando non si sarà colpato il tutto. Poi trasferiremo tutto sul bancone, giusto, e lo lavoreremo un pochino con le mani. E lo metteremo a lievitare, nevelo a doppiare di bolognese. Ecco la nostra pagnotta. Natalena, subito si è assemblata, la vogliamo lavorare un altro poco a mano? Oh, sei venuta proprio, diciamo che non puoi fatticare. Eh, allora, ci scopriamo, manda a lei l'ora, lavora un altro pochino la pagnotella con le mani. Poi la lasceremo nella ciotola coperta al calduccio a lievitare per un'oretta. Poi quando sarà lievitato, lo sgonfieremo e andremo a creare dei filoncini, com'è? Dei filoncini di circa 150 grammi, prima vanno pesati, poi creeremo dei filoncini, li chiuderemo a forma di tarallino, li spanderemo con strutto, e poi sovrapporremo a un altro filoncino sopra, sempre chiuso a forma di tarallino. Quindi sono solo due, uno sull'altro? Sì, sono due, uno sull'altro. E poi lieviteranno di nuovo e dopo verranno cotti. Ma Dalena, tu sei in un mededio sencero assoluto, vero? Sì. Come mai? Hai perso la vita nel corso del tempo? No, io sono nata prematura e sono stata messa in incubatrice. Ho capito, è una cosa molto frequente, a volte, almeno per il passato accadeva, quando i bimbi venivano messi in incubatrice non si sapeva che le lampade erano dannose per il bulbo oculare e quindi si facevano tutti i danni. Ok, è un impatto che viene proprio subito, subito, non perdete molto tempo ed è molto ampia che vuole altra parte. Sì, non si appiccina alle mani. È anche a fisica, perché non si appiccina alle mani. Benissimo, lo facciamo riposare e ci vediamo dopo il riposo. L'altro impasto è ben gonfio e levitato, lo possiamo sconfiare e lavorare un altro po' con le mani. Nel di Maddalena, Maddalena farà delle palline che le dobbiamo pesare. Sì, 150 grammi. Ogni palliottella. Ogni palliottella. In questo modo avremo una garanzia che la cottura sarà tutta omogenea, quindi andremo a pesare e poi a creare proprio questo tarallo. Quindi è un doppio tarallo, uno sotto e uno sopra. Faremo un filoncino e lo andremo a congiungere nell'estremità e poi un altro filoncino dallo stesso peso. Giusto? Sì. Quindi dalla cagliottella di 150 grammi, creeremo due filoncini. No, ogni filoncino deve essere 150 grammi. Quindi 150 su 150. Sì. Ok, facilità. Dei 150 grammi che ci servono, ho creato questo filone, deve essere più sottile o va bene così? No, no, un poco poco più sottile, ma pochissimo più sottile. Ok, poi in genere per i taralli, i filoni e il pepe io vado un po' ad attorcigliare il filone. No, questo qua si chiude. Fidone è bassa, ad anello, ok? Ad anello. E poi mettiamo un altro sopra. No, prima lo dobbiamo spalmare con un poco di sogno. Va bene. E poi ci dobbiamo mettere un altro filoncino sopra. Non era ionico, diciamo. Va benissimo. Quindi un anello e un altro anello sopra. Sì, un altro anello sopra. Ok. Sì, un altro anello sopra. No, non è un altro anello sopra. No, non è un altro anello sopra. Ecco le nostre freselle pronte per essere infornate. Abbiamo cosparso i primi tre anelli con un pennellino in tinto dello strutto. L'ha fatto Marraena, giustamente. E poi abbiamo sovrapposto a questi tre anelli di impasto altri tre anelli. Abbiamo cosparso un altro pochino di strutto la superficie. Quindi in tutto, con le tosi che vi abbiamo dato, verranno fuori tre fresellone belle potenti. Ora, io vado ad infornare a 160 gradi per circa, più o meno, 10-15 minuti. Eh, 10-15 minuti, dipende se dipende dai forni. Queste neviteranno ancora in forno, secondo me. Comunque, eventualmente dipende molto dai forni. Io ho scelto di tenere un po' la temperatura più bassa, perché il mio forno ultimamente sta facendo un po' di capisci. Però, insomma, dai 160 ai 180, ai 190 gradi, quella è la temperatura. Poi ognuno conosce il proprio forno. Andiamo ad infornare. Ecco le nostre freselle beneventanee appena sfornate. Queste freselle sono come dei tortanielli, diciamo. Che cos'è il tortaniello? Lo spiega! Nei piccoli capisci, mi danno l'idea del caciadello in miniatura. Infatti, tu dicevi che si affettano, sì. Si affettano e si mangiano con i sangue. Ok, quindi anche per i vostri picnic o per il vostro panchetto pasquale, teneteli in considerazione. In considerazione, provateli a fare e magari mi fate sapere. Da Cellulce in cucina è tutto, da me, da mandalena anche. E vi saluto, vi do una buona Pasqua e un bacione grande a tutti. E ringrazio il Macchio Coop e i ragazzi di Radio Stiani. Ciao a tutti! Ciao! Musica